Dico subito che per un imprevisto la dottoressa Portulano non riesce a essere con noi, ci dispiace ma non abbiamo potuto, è proprio capitato pochi minuti fa e quindi non siamo riusciti a sostituirla ma questo l'abbiamo a altre persone e poi consente un pochino più di spazio ai nostri tre relatori. Detto questo comincio subito, apro questa riunione di webinar che ha un titolo spero intrigante, cioè la fiducia nei confronti della scienza circa questo vaccino. Mi spiego, questo vaccino in un senso è un miracolo come è stato detto più volte nel senso che segna sicuramente un passo in avanti nelle tecniche vaccinali poi probabilmente gli esperti ne parlano, sapranno dire meglio di me ma sicuramente ha segnato un qualche cosa di straordinariamente nuovo nella struttura stessa dei vaccini, quel poco che capisco, tanto che alcuni dicono che non sono vaccini, sono modificazioni genetiche come al solito si gioca su quello ma sono qualche cosa di sicuramente innovativo. Dall'altra parte sono stati fatti con grande rapidità e a volte questa rapidità è stata scambiata per fretta con l'idea che si è sempre visto che questa fretta farebbe pensare a cose terze che probabilmente questo aspetto ha risollevato, ha risuscitato antichi pregiudizi nei confronti dei vaccini perché non dimentichiamolo che nei confronti del vaccino c'è sempre stata sin dall'inizio una forte dose di ostilità pregiudiziale tanto che il grande Jenner sul culo su se stesso e su, mi pare, suo figlio o comunque persone vicine proprio per convincere della bontà della questione ma ancora nell'ottocento c'erano stampe raffiguranti e dopo la vaccinazione le persone crescevano le corna non per ragioni così diciamo istrioniche ma perché il vaccino che viene dalla vacca avrebbe modificato queste cose allora la domanda che ci siamo posti è esattamente quella di dire questo vaccino aumenta la fiducia alla scienza segna l'ingresso della nostra società in una società scientifica cioè veramente da oggi in avanti basata sulla scienza perché sempre di più avremo bisogno di dipendere da dati scientifici e non dico da avere il CTS il comitato tecnico scientifico che ci governa ma da avere un governo fortemente improntato a dati scientifici oppure questo vaccino produce sfiducia e dà adito a queste tendenze che io noto scientista chiamerei irrazionali ma che alcuni dicono sono a difesa di una reale umanità questo direi che è il quadro generale da dibattere e adesso do la parola a Giuliana Pitacco che è socia e responsabile a Trieste della sezione triestina della consulta di bioetica nonché responsabile nella ASL locale di vari servizi e cedo la parola che condurrà il dibattito io ringrazio tutti prima di tutto i relatori Silvio Garattini, la vigna del Corona, Silvia Camporesi per il tempo che ci dedicano alla preparazione che hanno avuto e ci stanno seguendo prego Giuliana allora innanzitutto buonasera a tutti sono molto emozionata perché è la prima volta che mi capita di moderare uno di questi seminari spero di essere a lettezza e per rispondere a questa domanda che è il nucleo proprio del seminario di questo pomeriggio passerei per primo la parola al professor Silvio Garattini dell'istituto Mario Negri abbiamo deciso di fare circa 20 minuti di relazione per lasciare anche lo spazio al dibattito ma naturalmente se abbiamo bisogno di qualche minuto in più non ci interromperemo prego professor Garattini, vi ringrazio grazie per l'invito io penso che la mia funzione non è tanto quella di rispondere vi sentite? pronto? per tutti di chiudere tutti i microfoni e lasciare solo acceso quello del professor Garattini perché altrimenti c'è un rimbombo che facciamo fatica a seguire grazie per l'invito io quello che cerco di fare molto rapidamente certamente in meno di 20 minuti perché penso che la parte più interessante è sempre quella della discussione soltanto per darvi delle informazioni sui vaccini in modo che ci sia un'adeguata una base comune immagino che non tutti sono esperti di vaccini e quindi avere un'idea di quello che sta circolando può essere utile allora è vero che è stato fatto un grande progresso però questo progresso non dipende dall'industria farmaceutica ma dipende da tutti gli studi che hanno stati fatti in un campo completamente diverso cioè la tecnologia che viene utilizzata è una tecnologia che deriva dagli studi sui tumori fondamentalmente e poi è stata adattata e c'è stata certamente una grande capacità nell'adattarla a questo aspetto come pure le nanoparticelle che si usano e che sono la parte più innovativa perché non richiede più un vettore virale almeno alcuni dei vaccini non richiedono un vettore virale anche questo è il frutto delle conoscenze sulle nanoparticelle che si sono sviluppate in questi ultimi anni senza questa tecnologia non avrebbero potuto certamente fare né il vaccino Pfizer né il vaccino Moderna inoltre diciamo bisogna tener conto nel valutare il significato di questi vaccini tenere conto che c'è stato un grande innesto di risorse pubbliche si calcola che siano state inserite fra fondi pubblici e fondi non profit tipo la fondazione delle fondazioni americane sono stati circa 16 miliardi di dollari che sono stati quindi diciamo il lavoro di chi doveva mettere a punto i vaccini è stato facilitato come pure è stato facilitato dal fatto che la burocrazia che normalmente richiede molti tempi per dare qualsiasi autorizzazione è stata velocissima e quindi questo diciamo pensate che normalmente per dare un giudizio su un farmaco l'EMA impiega 270 giorni qui invece si è utilizzato un sistema di rolling che ha permesso di valutare i singoli pezzi di ricerca man mano che venivano terminati quindi si è potuto fare un lavoro molto più veloce questo lo dico per togliere anche molte delle diciamo dei dubbi che sono dubbi legittimi dovuti al fatto che c'è stata una grande accelerazione che si è fatto praticamente in meno di un anno quello che normalmente richiede parecchi anni con i vaccini tradizionali e questo insomma è una premessa noi abbiamo oggi disponibili tre vaccini allo stato attuale approvati da tutte le autorità l'autorità Afro-Drug Administration per gli Stati Uniti l'autorità inglese per il Regno Unito e l'EMA per l'Europa i tre vaccini sono il vaccino Pfizer-BioNTech che è una joint venture fra l'industria americana e un gruppo tedesco questo è un vaccino che è fatto da nanoparticelle che contengono pezzi di RNA pezzi di RNA che sono fatti in modo tale da non reagire con il DNA perché diciamo queste particelle per produrre le proteine S devono entrare nelle cellule e lì la componente diciamo lo spessore lipidico che sta intorno nelle nanoparticelle si scioglie e l'RNA che è una matrice per produrre dei pezzi di proteina S che è la proteina importante perché il virus possa entrare nelle cellule se non entra nelle cellule il virus non può sopravvivere allora la proteina S sviluppata dall'RNA che è entrata nelle cellule viene percepita dall'organismo come estranea e per questa ragione l'organismo predispone due tipi di risposta una risposta umorale che è quella più conosciuta che riproduciamo dicendo la risposta anticorpale e una risposta invece cellulare che è una risposta linfocitaria cioè delle cellule o dei mononucleati che sono in grado di aggredire il virus e questo detto in termini semplici il vaccino di Pfizer è stato sperimentato a partire da 16 anni fino a tutte le età quindi è in grado di coprire tutto l'arco dell'età delle persone fatto di due dosi l'intervallo fra le due dosi è di 21 giorni all'inconveniente di dover essere tenuto a temperature molto basse fra 60 e 80 gradi e ha una efficacia del 95% quando parliamo di efficacia è il rapporto fra quelli che si ammalano di covid non essendo trattati con il vaccino rispetto a quelli che invece sono trattati con il vaccino su circa 35.000 pazienti o partecipanti allo studio il gruppo non trattato ha sviluppato 162 casi di covid-19 e invece il gruppo dei trattati ne ha sviluppato solo 8 quindi questo è il rapporto di efficacia possiamo dire la stessa cosa per quanto riguarda il vaccino Moderna che anche lui è fatto di nanoparticelle e diciamo ha le stesse caratteristiche ha il vantaggio che la sua componente lipidica delle nanoparticelle è più stabile e quindi ha il vantaggio di poter essere conservato a una temperatura migliore cioè di meno 20 gradi il tempo due dosi sono necessarie anche per loro anche per questo vaccino la distanza tra le due dosi è di 4 settimane 28 giorni e l'efficacia è di circa il 95% quindi queste diciamo sono le caratteristiche dei due poi viene il 3 il terzo che è quello di AstraZeneca che è arrivato un po' più in ritardo rispetto ai primi due è il terzo che è stato approvato da parte dell'EMA questo vaccino usa invece non le nanoparticelle ma usa come vettore un adenovirus che non è patoceno per l'uomo e che quindi non desta problemi dal punto di vista della sicurezza lo studio di questo vaccino porta diciamo invece che RNA porta DNA ma poi il DNA sviluppa il suo RNA e quindi fa più o meno le stesse cose che fanno gli altri due vaccini ma lo fa attraverso un vettore di tipo adenovirus e anche questo vaccino viene utilizzato con due dosi il rapporto di intervallo è molto diverso perché può arrivare fino a 12 settimane per la somministrazione della seconda dose ha il vantaggio di poter essere mantenuto in un normale frigorifero ma ha due principali svantaggi uno è che è stato studiato soltanto in soggetti fra 18 e 55 anni e l'altro svantaggio è che la sua efficacia è intorno al 60% quindi dobbiamo calcolare questo poi può servire da riferimento dobbiamo calcolare che quando noi abbiamo utilizzato 40 milioni di dosi che erano le dosi che abbiamo comperato da parte di Pfizer come Italia ci ritroviamo dovendo utilizzare due dosi a vaccinare 20 milioni di persone ma ne proteggiamo soltanto 12 milioni perché appunto proteggiamo soltanto il 60% quindi questo è il grande inconveniente di un vaccino che non copre diciamo almeno il 90% dei vaccinati questa è la situazione attuale cosa vediamo per il prossimo futuro per il prossimo futuro vediamo altri vaccini uno che è in corso di studio da parte dell'EMA che è il vaccino russo lo Sputnik 5 questo vaccino è molto simile a quello di AstraZeneca però ha un vantaggio che ha una protezione del 90% quindi è un vantaggio che è dovuto al fatto che per veicolare le due dosi il vaccino russo impiega due adenovirus perché è importante perché se si usa un solo virus per le due dosi c'è la probabilità che si formino anticorpi contro questo adenovirus e che quindi quando arriva la seconda dose l'adenovirus sia meno efficiente se si usano due vettori molto simili è chiaro che la seconda dose sarà pienamente efficiente perché è veicolata da un virus completamente diverso quindi questo diciamo è un problema che in questo caso è diventato positivo e poi abbiamo il Johnson & Johnson questo è un altro vaccino che ha però la caratteristica di poter essere utilizzato con una sola dose ma la sua efficacia è circa il 66% e quindi questo diciamo vuol dire quello che abbiamo già detto per AstraZeneca noi in che condizioni siamo dal punto di vista delle vaccinazioni siamo nelle condizioni di essere in grande ritardo e questo diciamo è stato il ritardo è stato ammesso recentemente anche dalla Presidente dell'Unione Europea noi in Europa abbiamo diciamo vaccinato cioè abbiamo impiegato per ogni cento residenti 3,9 dosi ma gli Stati Uniti ne hanno già vaccinati 12 virgola qualcosa e l'Inghilterra ne ha vaccinati più di 18 Israele ha superato il 50% questo ci dice che siamo in grande ritardo e che non abbiamo nonostante che sia stato un po' aumentato il numero ma per ragioni di produzione avremo più dosi ma dovremo aspettare più tempo i calcoli che io ho cercato di fare e che diciamo non danno grande sicurezza perché non sappiamo se tutto quello che ci è stato promesso arriverà abbiamo già visto che ci sono dei ritardi e che ci sono degli intoppi che diciamo sono assolutamente comprensibili di fronte alla necessità di sviluppare miliardi di dosi però dicevo che noi in un caso estremamente ottimistico potremo raggiungere circa i 40 milioni di vaccinati e di protetti intorno alla fine dell'anno è molto più probabile che raggiungeremo il traguardo soltanto nel primo trimestre del 2022 quindi siamo in ritardo ma abbiamo invece bisogno di agire in fretta e finisco subito perché dobbiamo agire in fretta perché nonostante questo sia un virus relativamente stabile molto più stabile per esempio del virus dell'influenza però è un virus che viene sottoposto a delle continue mutazioni abbiamo diciamo si calcola che ci siano state almeno 20.000 mutazioni della proteina delle proteine che compongono il virus tenete presente che sono delle proteine molto grosse la proteina S per esempio ha circa mi pare 1273 aminoacidi quindi è una grossa proteina e se calcolate che su un solo virus ci sono fra i 25 e le 40 punte cioè queste spike che poi non sono punte ma sono le specie di tulipani diciamo che le possibilità di mutazioni sono molto molto importanti e quindi queste varianti possono indurre dei problemi perché in linea generale continuano a essere sensibili ai vaccini ma però ci possono essere varianti che diventano insensibili ai vaccini è noto a tutti perché è stato riportato dalla stampa che la variante sudafricana è una variante che non è più sostanzialmente sensibile al vaccino AstraZeneca che diciamo dal 60% diventa attivo al 20% che naturalmente non è più un vaccino utilizzabile quindi abbiamo bisogno di fretta ma abbiamo bisogno di fare in fretta non soltanto la diciamo protezione dei paesi occidentali ma soprattutto dei paesi a basso reddito perché perché se non facciamo questo il virus continuerà a circolare e inevitabilmente ci ritornerà nei nostri paesi e se ci ritorna qualcosa che è diciamo insensibile ai vaccini dobbiamo ricominciare tutto da capo per questo ci sono due grandi esigenze che dobbiamo tenere assolutamente presenti cioè dobbiamo fare in modo che ci sia una continua caratterizzazione del virus che circola in Europa e in particolare anche nel nostro paese pensate che in Inghilterra in questo periodo hanno fatto circa 200.000 sequenze virali prendendo molti isolati da tante parti dell'Inghilterra e da tanti componenti della popolazione noi ne abbiamo fatti forse mille e questo è un grande errore perché ci troviamo nella condizione di valutare se ci sono qui determinate varianti che sono state caratterizzate altrove ma il punto è che noi dobbiamo conoscere in profondità quali sono le varianti che circolano da noi per sapere se i vaccini continuano a essere efficaci oppure no e quindi dovremmo cambiare molto tutto questo diciamo sia i ritardi sia la parte il fatto di non aver fatto uno studio anche noi adeguato delle varianti fa parte della scarsa considerazione in cui la scienza è tenuta nel nostro paese la scienza oggi è ridotta alla miseria nel nostro paese e quindi non ci dobbiamo aspettare che possa essere molto efficace e che possa in qualche modo influenzare la cultura di quelli che devono poi prendere delle decisioni mi fermerei qui grazie 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 Professor Derazzini per questa sua esaustiva presentazione sui vaccini devo dirle che mi sto occupando di questo nella mia azienda a un quadro così chiaro onestamente non verrà mai mi ha chiarito molte molte cose sono molte cose che vorrei chiedere ma magari le lascerò dopo no scusi scusate se intervengo forse conviene che dedichiamo una decina di minuti alle domande se ne abbiamo di pressanti perché poi il professor garattini appena dopo le sei deve lasciarsi quindi forse è più opportuno che volete voi grazie silvio ma è meglio che magari si chiedo scusa non sapevo di questo impegno del professor garattini se ci sono domande le altre volte abbiamo fatto così le persone che volevano intervenire accendevano la la videocamera e quindi si pallisavano e proponevano la il proprio intervento se qualcuno approfitterei per fare io una domanda il professor garattini no e lei ha detto che la scienza nel nostro paese è ridotta la miseria io non posso generalizzare però lavoro in un'azienda sanitaria e a volte ho anche l'impressione che i servizi siano ridotti la miseria perché questo sforzo cioè noi diciamo che c'è questo grande ritardo per quel che riguarda l'approvvigionamento dei vaccini però almeno io vivo vedo che anche la macchina per prepararsi per riuscire a fare una vaccinazione così so per dirle nella mia città fino a che dovevamo vaccinare il personale sanitario non era mai molto complicato ma adesso che cominciamo la vaccinazione anche sui over 80 e cominceremo la prossima settimana credo che avremo delle grandi criticità sia in termini di spazi ma anche in termini di preparazione perché chiederemo le persone over 80 di arrivare con una modulistica già compilata per quanto riguarda proprio le proprie condizioni un'auto un'amnesi con i farmaci non so quante persone sopra gli 80 anni anche per dire la difficoltà questi moduli si scaricano online non so quanti oltre 80 anni se non hanno un supporto dei parenti e dei familiari siano in grado quindi credo che questo sia anche un problema e l'altra cosa che volevo dire ci uscita un altro problema che è proprio quello della organizzazione io vi posso dire che mi ha molto sorpreso per esempio il fatto che non abbiamo non abbiamo nemmeno predisposto un modulo per sapere da parte di quelli che sono stati vaccinati che tipo di effetti collaterali hanno avuto che sarebbe molto importante perdiamo una gran quantità di dati che sarebbero molto utili questo perché perché non c'è una una direzione centrale una comprensione dei problemi a livello centrale poi ogni ospedale magari fa il suo modulino ma poi non possiamo mettere insieme le cose perché ognuno fa quello che ritiene più opportuno e invece la organizzazione è molto importante per perché se avremo ammesso che avremo avessi avremo a disposizione un buon numero di dosi tutte allo stesso tempo certamente l'organizzazione diventa fondamentale io vi posso dire conosco quello che stanno facendo in Giappone per esempio in Giappone in questo periodo nei primi due mesi dell'anno quello che hanno fatto sono state le esercitazioni cioè hanno predisposto delle strutture e hanno visto e stanno cercando di vedere qual è il modo migliore per vaccinare in fretta e per fare in modo che tutti arrivino al momento giusto abbiano quello che serve che ci siano i medici che ci siano i infermieri e loro faranno 80 milioni di di vaccinazioni dal primo di marzo al 31 di maggio questa è un'organizzazione israele ha fatto la stessa cosa ha già vaccinato quasi la metà della sua popolazione cioè anche l'organizzazione implica una mentalità che purtroppo non abbiamo o pensiamo che che si posso fare in ogni caso poi in qualche maniera e invece questo sarà uno dei principali ostacoli se avremo la possibilità di fare una vaccinazione massiva Silvio scusami sono Maurizio queste sono considerazioni molto importanti che riguardano la questione scientifica all'organizzazione scientifica però io avrei una domanda a monte e cioè questi vaccini sono stati fatti in con grande rapidità anche perché se non sbaglio i cinesi hanno messo a disposizione il diciamo l'RNA esatto no e c'è stata ampia collaborazione scientifica che di solito non si vedeva ecco allora ci sono due due problemi il primo riguarda il fatto che è stato sviluppato soprattutto da multinazionali che adesso danno fratti non noti dice che non sono noti giustamente il prezzo che fanno uno non lo deve sapere l'altro per tutte queste faccende la seconda cosa riguarda invece il problema dei degli studi di controllo di cui tu dicevi cioè sono stati fatti così rapidamente che alcuni dicono che si sono saltati dei passaggi che dovevano essere fondamentali e questo è un fattore che crea sfiducia nella scienza cioè sembra quasi che ad esempio i fattori di sicurezza siano messi in non cale insomma siano trascurati per arrivare subito usiamo un termine brutale al profitto e quello quello che posso dire io è che i passaggi fondamentali sono stati fatti tutti perché c'è stata la ricerca sperimentale fatta dagli animali primo primo caso e tutti hanno fatto gli studi hanno fatto gli studi in varie specie animali incluse le scimmie che sono l'animale d'elezione per questo tipo di per questo tipo di infezione insomma poi è stata fatta la fase 1 la 2 la 3 quindi i dati di effetti avversi sono noti e sono stati calcolati sia per le persone al di sotto dei 65 anni sia al di sopra e oggi noi sappiamo per esempio che ci sono meno effetti collaterali negli anziani rispetto ai più giovani questi dati li abbiamo quello che diciamo manca certamente sono ancora molti aspetti per esempio manca il sapere quanto dura l'efficacia del vaccino questo non lo possiamo sapere se non passa il tempo non è che possiamo accelerare quindi ci sono certamente molte cose che non conosciamo una è questa lo sapremo man mano che passa il tempo per adesso sappiamo che dura almeno per sei mesi quando saranno passati otto mesi vedremo come è la situazione e così via andando avanti nel tempo la seconda cosa che non sappiamo è in modo diciamo importante è se durante il periodo della formazione degli anticorpi il soggetto può essere ancora contagiato e quindi può essere nel primo periodo ancora disseminatore di virus e questo diciamo non lo sappiamo con certezza tant'è vero che per essere sicuri c'è l'idea che se uno diciamo viene pur essendo vaccinato viene a contatto con soggetti che hanno il covid dovrebbe fare un periodo di stare lontano dagli altri sostanzialmente quindi questo diciamo è un'altra cosa che non sappiamo come non sappiamo se l'insieme dei virus che circolano oggi nel nostro paese è veramente sensibile al vaccino che ai vaccini che utilizziamo perché non abbiamo ancora fatto diciamo degli studi completi da questo punto di vista perché non sappiamo neanche quali sono in termini quantitativi le varianti che circolano nel nostro paese quindi non c'è dubbio che c'è una serie di cose che non conosciamo diciamo è altrettanto vero comunque che le industrie farmaceutiche fanno il loro business siamo noi che dobbiamo essere attenti per esempio io ho trovato assolutamente incredibile che si possono mantenere dei contratti fatti con soldi pubblici che si possono mantenere segreti perché fra l'altro se li avessero fatti vedere a qualcuno che ha una esperienza nel fare contratti farmaceutici non avrebbero fatto almeno due errori fondamentali il primo è quello di ordinare le dosi invece di ordinare le confezioni perché se si ordinano le dosi le hanno ordinate sulla base che ci fossero cinque dosi per ogni confezione siccome ce ne possono essere sei siamo rimasti in difficoltà perché le dosi non saranno diciamo cinque calcolate cinque per ogni flacone ma saranno sei per ogni flacone quindi avremo di fatto meno flaconi rispetto a quelli che pensavamo di avere e poi c'è il problema della della temporaneità nella nel mettere a disposizione il vaccino se facciamo abbiamo fatto un rapporto su base trimestrale basta che il vaccino ce lo diano alla fine del trimestre che è quello che che sta succedendo per cui diciamo se arriva alla fine del trimestre il grosso del vaccino vuol dire che per vaccinare ci vuole il trimestre successivo e questo diciamo sono alcuni dei problemi che che abbiamo incontrato sempre per l'approssimazione sempre per il fatto che non abbiamo la capacità di pensare in anticipo quello che ci può servire faccio un altro esempio siccome è molto probabile che o perlomeno non è da escludere che in futuro abbiamo bisogno di modificare i vaccini abbiamo bisogno di avere quello che serve se circoleranno delle varianti insensibili ai vaccini molti hanno pensato all'idea di avere degli stabilimenti che possono essere a disposizione per accelerare i processi e per essere in grado di non essere schiavi di quello che fanno all'estero ma di avere le nostre risorse con cui far fronte alle nostre necessità questo non si è fatto e non si sta facendo in francia per esempio lo stabilimento Sanofi Pasteur ha fatto un accordo con Pfizer e produrrà per Pfizer una certa quantità di vaccini che evidentemente ci metteranno a disposizione anche l'Italia ma è chiaro che i primi saranno a disposizione di chi ha pagato per primo Silvio scusami se ti interrompo vedo che c'è Silvia Marinoni che vuole fare forse non l'ha vista Giuliana nella chat una domanda e poi magari chiudiamo e passiamo no la professora Garattini in realtà in quest'ultimo intervento ha risposto la mia domanda il mio dubbio era sulle varianti e ha risposto molto bene ai dubbi che mi erano rimasti quindi grazie per l'intervento io vedo Demetrio Neri che chiede che chiede mi sbaglio sì sì sono io ciao ciao senti una domanda molto secca ma da un milione di dollari quest'aura miracolistica che molti stendono un po' sulla scienza in televisione e così via secondo te farà bene o male alla scienza fa male molto male perché è un'attività umana ed è sottoposta ad errori come tutte le attività umane e quindi non dobbiamo idolatrare niente al tempo stesso però dobbiamo riaffermare secondo me che la scienza è una fonte di conoscenza che non può essere sostituita da altri tipi di conoscenza e quindi ha una sua dignità ha una sua modalità nel procedere e deve essere diciamo inserita nella cultura come le altre forme di di conoscenza c'è una conoscenza dovuta alla filosofia c'è una conoscenza dovuta all'arte c'è una conoscenza dovuta alla scienza che hanno pari dignità e che devono essere diciamo insegnate nelle scuole altrimenti avremo il tipo di cultura scientifica che abbiamo nel nostro paese dove la scuola è ancora di tipo letterario filosofico artistico e la scienza non è per nulla presente è vero che ci sono le materie scientifiche ma le materie scientifiche sono i contenuti della scienza non sono la scienza la conoscenza che è in tote è la metodologia scientifica che è una che sono altre cose insomma che bisogna capire perché anche per quanto riguarda gli effetti collaterali prendo l'occasione per dire un'altra cosa cioè anche per quanto riguarda gli effetti collaterali confondono gli effetti collaterali dovuti al vaccino rispetto a quello che succederebbe in ogni caso cioè persone che hanno più di 50 anni se dopo aver avuto una vaccinazione hanno un infarto e con ogni probabilità non è il vaccino che ha indotto l'infarto è che l'infarto lo avrebbero avuto in ogni caso e il vaccino non protegge dall'infarto quindi cioè bisogna che si sviluppi un tipo di cultura che non stiamo purtroppo sviluppando è un tipo di informazione che sia comprensibile alla gente perché la gente si tolga i dubbi avere dei dubbi è assolutamente normale e ragionevole il problema è di aiutare a risolvere i dubbi almeno quelli che sono risolvibili Silvio scusami l'ultima cosa poi penso che tu hai detto che la conoscenza scientifica è una forma di conoscenza io ti direi che è la migliore forma di conoscenza lo so che hai detto per determinate cose non per tutto va bene ma perché è certificata e perché è fatta con un procedimento rigoroso no sì però diciamo la forza della scienza è dovuta al fatto che fa gli errori come tutte le attività umane però siccome per avere diciamo un'idea che qualcosa sia vicino la verità ci vuole sempre una conferma e quindi è il fatto che tanti facciano gli stessi esperimenti che permette di correggere gli errori man mano che si fanno il che è diverso da ogni altra forma perché se uno riproduce il quadro di un altro è un plagio riprodurre l'esperimento di un altro è una necessità perché se non è riproducibile non ha nessun valore non so se ti ho risposto ma comunque c'era ancora un'osservazione pienamente soddisfatto pienamente soddisfatto c'era ancora un'osservazione nelle chat da parte di Weiter Marchetti che sottolineava anche lui questo limite di non avere pensato a studi centrali per valutare gli effetti collaterali e anche questo discorso ribadiva il problema della trasparenza dei contratti forse era sfuggita perché parlava no 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 il problema dei contratti è un problema fondamentale qui siamo stati per essere ottimisti siamo stati ingenui direi che se non ci sono altre domande passerei la parola alla professoressa Silvia Camporesi e anche in questo caso la pregherei se riesce a contenere in 20 minuti per lasciare un po' di spazio al dibattito grazie e qui parlare dopo il professor Garattini insieme a Vivina del Corona quindi io sono al King's College a Londra dove ho un background in biotecnologie e filosofia della medicina oggi vi contestualizzo la fiducia la fiducia nei saperi esperti in medicina di cosa si tratta di cosa parliamo quando parliamo di esitazione nei vaccini potete togliere l'audio se e quali sono le ragioni che sono state studiate che spiegano l'esitazione nei vaccini cosa sappiamo che funziona o non funziona nelle politiche di salute pubblica mirate alla vaccinazione e cosa possiamo fare si tratta di un problema complesso non parlo a braccio a qualche appunto comincio così comincio dal dire che è un dato di fatto che negli ultimi anni stiamo assistendo a livello globale a una crescente diminuzione della fiducia nei saperi esperti in vari contesti dalla salute alla medicina alla scienza alla tecnologia e tale diminuzione di fiducia nei saperi esperti si configura come un problema sotto vari punti di vista un problema epistemologico, etico e pratico per le politiche pubbliche per la salute in primis la vaccinazione ma cosa ci riferiamo quando parliamo di fiducia nei saperi esperti in medicina e tecnoscienza la fiducia pervade la vita personale, sociale e politica di ognuno di noi compare nella reciprocità quotidiana delle relazioni sociali nell'amministrazione, nella governance e nella politica che sono intrise di questioni di fiducia egualmente lo sono i modi di partecipazione pubblica con le istituzioni che negoziano l'expertise la competenza scientifica sistema sanitario nazionale in Inghilterra il National Health System l'FDA, l'EMA la percezione pubblica della fiducia nei saperi esperti in medicina è fortemente influenzata dal modo in cui i media e gli esperti stessi raccontano le opportunità e le incertezze della medicina e della scienza la fiducia viene spesso quantificata c'è, non c'è, è presente, assente, alta e bassa abbiamo visto vari sondaggi nel corso della pandemia ma anche prima che ci hanno detto per esempio che i cittadini dell'Europa del Nord erano più propensi dei loro concittadini dell'Europa del Sud Italia inclusa ad aderire alle politiche di salute pubblica lockdown imposte dai loro governi in modo volontario in quanto godevano di una maggiore fiducia nelle istituzioni quest'idea di fiducia dicotomica sottesa a sondaggi che cercano di quantificarla è l'idea del filosofo della politica americano Francis Fukuyama che in un libro del 95 fiducia come le virtù sociali contribuiscono alla creazione della prosperità descrive appunto la fiducia nella società descrive appunto società come società ad alte o a bassa fiducia questo tipo di concessione però va deve essere analizzata non deve essere presa necessariamente come un dato di fatto perché nelle scienze sociali ma anche nella filosofia della scienza vediamo che spesso la questione è più complessa non è solo una questione di presente o assente o alta o bassa Anthony il famoso sociologo britannico Anthony Giddens che nel suo libro ormai di 30 anni fa le conseguenze della modernità fiducia, sicurezza e pericolo parla della fiducia nell'autorità della scienza e della medicina e dice che ognuno di noi ognuno di noi ogni giorno nelle situazioni ed ambiti più diversi si trova ad affrontare scelte e scegliere è condizionato dalla conoscenza e dalle competenze scientifiche che altri posseggono e a cui dobbiamo vogliamo riconoscere quella competenza per concedere o no la fiducia oltreoceano negli Stati Uniti il medico filosofo americano Pellegrino che è uno dei fondatori della bioetica statunitense elenca la fiducia come una delle virtù chiave ed allenabili del professionista sanitario del medico Nancy Cass Jeremy Sugarman e Ruth Faden che sono bioeticisti americani parlano della fiducia come uno dei fragili pilastri della ricerca biomedica dei trial clinici degli studi clinici che è quello di cui stiamo parlando oggi quindi da proprio ricordare che l'etica clinica è nata proprio in risposta a alcuni famigerati scandali come l'esperimento clinico sul decorso naturale della sifilide sugli afroamericani a Tuskegee in Alabama tra l'inizio degli anni 30 e l'inizio degli anni 70 e che mostra come ancora oggi alcune categorie di popolazioni afroamericane non si abbiano meno fiducia nella ricerca clinica nei trial clinici esistono anche prospettive più critiche all'analisi del concetto di fiducia ne cito solo una della filosofa neocantiana britannica Onora O'Neill che nella sua prestigiosa BBC Rights Lectures che sono delle lezioni che ogni anno la BBC organizza invitando un famoso filosofo o altri studiosi insomma O'Neill smantella tre affermazioni legate alla fiducia che ci sia stato un declino nella fiducia pubblica nella fiducia delle istituzioni due che dovremmo avere più fiducia nelle istituzioni e tre che dovremmo ricostruire questa fiducia che è stata perduta nel 2002 quindi ormai vent'anni fa Onora O'Neill si è spinta fino a dire che se lo scopo della società fosse quello di avere più fiducia nelle istituzioni questo sarebbe stupido stupid perché la fiducia può venire data a persone che non ne sono degne invece di aumentare la quantità netta di fiducia nella nostra società O'Neill dice dovremmo assicurarci promuovere la qualità della trustworthiness in inglese trust è fiducia trustworthiness può essere tradotto come affidabilità oppure per restare semanticamente più vicino a trust con l'essere degno di fiducia e secondo questa concessione è l'affidabilità non la fiducia in sé che deve essere vista come la base della responsabilità e dell'accountability che è l'obbligo personale a rispondere alle proprie azioni della vita pubblica quindi dopo questa introduzione un po' veloce sul concetto di fiducia mi avvio a parlare dell'esitazione riguardo ai vaccini allora cosa intendiamo quando parliamo di esitazione riguardante le vaccinazioni in inglese vaccine hesitancy è definita dal sociologo francese Jeremy Ward come un ampio spettro di comportamenti e attitudini che include i seguenti rifiutare qualche vaccinazione ma accettarne altre vaccinare il proprio figlio o figlia più tardi di quando viene raccomandato non completare le dosi richieste da una certa vaccinazione o avere dubbi riguardo alla vaccinazione ma comunque vaccinarsi questo spettro di comportamenti e attitudini coinvolge una parte della popolazione molto maggiore della piccola minoranza che rifiuta completamente ogni forma di vaccinazione coloro che esitano ad essere vaccinati non devono essere confusi con gli anti-vaxxers sono due popolazioni diverse i primi coloro che esitano possono essere per lo più convinti da politiche di comunicazione efficaci e mirate i secondi no che i secondi vivono in un mondo epistemologico a parte in cui la scienza la conoscenza scientifica e i fatti sono irrilevanti per quelli che esitano non è così non rifiutano la conoscenza scientifica di per sé hanno dubbi hanno dubbi che sono legittimi come diceva il professor Garattini cui sono stati studiati di cui conosciamo le ragioni e adesso mi volto a parlare di questo quindi studi molto recenti dell'istituto francese Jacques Delors che si occupa di monitorare l'uptake dei vaccini mostrano le sfide che si pongono alle vaccinazioni covid da notare che la Francia è il paese con il più alto tasso di esitazione ai vaccini in Europa sono sfide queste dei vaccini covid che si sommano a un substrato già molto diffuso di esitazione sui vaccini preesistenti in Europa quindi non c'è da sorprendersi se vediamo esitazione ai vaccini covid ci sarebbe da sorprendere se non la vedessimo le ragioni dell'esitazione sono state ampiamente studiate da scienziati sociali pre-covid e possono essere fatte risalire almeno cinque contesti principali uno timori riguardo alla safety sicurezza ed efficacia dei vaccini due convinzione che approcci alternativi e naturali alla salute siano più efficaci e migliori dal punto di vista etico e morale naturalness argument in bioetica tre timori riguardo alla libertà dell'individuo l'autonomia dell'individuo sul proprio corpo è sovrana lo stato non può e deve interferire quattro percezione di conflitto di interessi fra i legami tra le aziende farmaceutiche i governi e la professione medica la non trasparenza di cui parlavamo e infine cinque la sfiducia nelle istituzioni e più recentemente la sfiducia nella medicina e nella scienza di cui poi su cui torno riguardo ai vaccini covid quindi il problema che interessa i governi e le autorità di salute pubblica è il problema ben noto di trovare strategie adatte di politiche di salute pubblica e di comunicazione efficace che possono raggiungere coloro che esitano alla vaccinazione personalmente non sono l'unica naturalmente quando dico così penso che non valga la pena provare a raggiungere gli anti-vaxxer che vivono in un mondo epistemologico a parte le fake news che rifiuta le conoscenze scientifico e le considera irrilevanti quindi andiamo a cercare di convincere coloro invece che hanno dei dubbi e qui accorre un'analisi anche di scienze politiche per esempio la politologa dell'università di Vienna Katarina Kislic in un articolo del 2018 è andata a analizzare la crescente esitazione quindi pre-covid dei vaccini in Europa come un caso studio nelle relazioni stato e società questa chiave di lettura permette di capire le dinamiche che sottengono alle relazioni tra i governi e i loro cittadini e che servono a spiegare perché trovare politiche di salute pubblica appropriate ed efficace per le vaccinazioni può essere particolarmente difficile ma non è impossibile si parte dalla premessa che per raggiungere un pubblico per ogni tipo di politica e comunicazione è necessaria la comprensione dello spazio che questo pubblico occupa quindi qual è lo spazio letterale e metaforico occupato da coloro che esitano alla vaccinazione non è semplice definirlo e questa è la prima difficoltà che insorge quando si devono pensare a queste politiche di salute pubblica efficace non è facile definirlo perché hanno spazio plurale e variegato dove si vanno a insediare diversi tipi di pubblici e persone che hanno poco da condividere l'una con l'altra ci sono come ho detto prima vari tipi di ragioni per cui le persone esitano a vaccinare e ci sono gruppi che non sono spesso ben definiti non hanno bisogno di essere organizzati in coalizioni formalizzate o gruppi di interesse e questo è uno dei punti di forza di coloro che esitano alla vaccinazione e che a differenza di altri movimenti sociali non hanno bisogno di organizzarsi e spesso all'interno di questa categoria si trovano persone anche molto diverse in più abbiamo il web le forme di aggregazione siti online forum che promuovono sentimenti di esitazione alla vaccinazione o di scetticismo che rende difficile identificare gruppi o individui con cui lo Stato e le autorità di salute pubblica si possono rapportare e iniziare un dialogo e rende difficile stabilire il web quanto ampio quanto attrazione abbiano questi messaggi quindi le sfide per la politica della salute pubblica diventa cercare di individuare coloro che possono essere raggiunti sappiamo che alcune cose non funzionano e questo è già un punto di partenza sappiamo che descrivere per esempio genitori che rifiutano o esitano a vaccinare i propri figli come oggetto di stigma e antagonista alle linee guida di salute pubblica come cattivi genitori come li marginalizza e li allontano ancora di più del sistema se prima esitavano sicuramente se gli diciamo che sono cattivi genitori la loro esitazione diventa non vado a vaccinare e questi ci sono dati ben chiari che vengono da studi empirici di molti anni pre-covid quindi sappiamo che alcune politiche non funzionano sappiamo un'altra cosa che l'espressione comprensione pubblica della scienza che è resa infelicemente in inglese con l'acronimo PUS Public Understanding of Science è una concessione sorpassata della comunicazione della scienza secondo cui esiste un deficit di conoscenza nel pubblico che deve essere colmato una volta che sarà colmato una volta che sarà il pubblico sarà istruito il pubblico aderirà alle salite pubbliche se andranno tutti a vaccinare ma non è così perché come elencavo prima ci sono varie ragioni di cui solo i timori della efficacia e della safety della sicurezza dei vaccini è solo uno ma ce ne sono almeno altri quattro a questi fattori si aggiungono gli elementi unici dei vaccinazioni covid che vanno a aumentare la complessità questa è come è stato già accennato la velocità di produzione dei vaccini stessi il problema della non trasparenza nelle case farmaceutiche la discrepanza tra modalità e tempi di approvazione nei vari paesi l'abbiamo visto in Europa con la discrepanza tra il Regno Unito e l'EMA la discrepanza tra le linee guida dei vaccini che sono stati approvati in un modo professor Garattini prima ci parlava del vaccino Pfizer che è stato approvato due dosi 21 giorni l'una fra l'altra nel Regno Unito questi 21 giorni non vengono rispettati fra la prima e la seconda dose è stato deciso di distribuire dando prima dose al maggior numero possibile di persone e il richiamo verrà fatto quando si può a 6-8 settimane questo è quello che accade adesso quindi chiaramente il pubblico va a dire ma come questi sono stati approvati in un certo modo vengono distribuiti in un altro e infine la sfiducia verso gli scienziati che per la prima volta o in un modo più acuto vengono percepiti come fonti di informazione che non sono sempre affidabili e qui ci sono dei dati che vengono da qui cito Barbara Saracino che è una sociologa dell'Università di Bologna che ha presentato i risultati di un sondaggio effettuato dall'osservatorio Scienze e Tecnologie e Società dell'Università di Bologna in un questionario del 2020 con dati rilevati anche a gennaio del 21 va a vedere che la fiducia negli scienziati che è tradizionalmente piuttosto alta tra i cittadini italiani è emerso che è in decrescita e questo attribuire al fatto che gli esperti hanno spesso dato durante Covid pareri contrastanti tra loro e non c'è stata una comunicazione dell'incertezza della scienza quindi non ci si deve sorprendere se a queste ragioni di esitazione dei vaccini che sono state ampiamente studiate a cui si sommano la velocità di produzione dei vaccini il fatto che ce ne siano vari offerti discrepanze tra modalità di approvazione discrepanze tra linee guida e distribuzione dei vaccini non ci si deve sorprendere se c'è esitazione sarebbe sorprendente il contrario mi avvio alle conclusioni parlando della carattere dell'incertezza qui ricollegandomi a quello di cui diceva professor Garattini i saperi esperti che nascono dalla scienza hanno per definizione un carattere probabilistico e incerto la scienza procede per errori procede per incertezze è il metodo scientifico viene riprodotto gli esperimenti vengono riprodotti da altri e si va a confermare o meno la fiducia diventa particolarmente importante in circostanze in cui il futuro non può essere conosciuto con certezza e nel caso di covid della pandemia questo è un tratto assolutamente distintivo di quello che stiamo vivendo tutti noi da ormai più di un anno o un anno non possiamo conoscere il futuro con quella certezza che pensavamo di poter conoscere viviamo in un orizzonte temporale alterato viviamo la giornata e in questo senso la fiducia acquista un carattere performativo cioè permette agli individui a noi di muoverci di mantenere una capacità di agire di mantenere una sembianza di razionalità in un futuro che ha perso molte delle certezze dei punti di ferimento che avevamo ok questa caratteristica della fiducia la sua relazione con il non sapere il non conoscere l'incertezza è l'effetto più problematico degli sforzi di coinvolgere la collettività nei saperi esperti della scienza una conoscenza parziale una valutazione provvisoria della probabilità di eventi futuri della probabilità di eventi collaterali una continua revisione dei presupposti stessi della conoscenza scientifica sono pratiche epistemologiche intrinseche alla ricerca scientifica sono difficili ma non sono impossibili da comunicare al pubblico sappiamo che comunicazioni che nascondono volutamente tali incertesse sono controproducenti hanno efficace comunicazione e alienano vanno allontanare coloro che esitano che ci vedono una mancanza di trasparenza una cattiva fede degli scienziati o qualche altro cospirazione tra governi case farmaceutiche e scienziati quindi la sfida della comunicazione pubblica è quella di imparare a comunicare l'incertezza comunicare anche il disaccordo all'interno della comunità scientifica ci sono vari tipi di disaccordo non tutti sono giustificati alcuni vengono definiti dal filosofo della scienza immaculata de melo martin e christian inteman come disaccordi che sono appropriati dal punto di vista normativo e altri che non sono appropriati pensiamo a Andrew Wakefield e il link tra i vaccini e autismo ma anche questi devono essere comunicati in un modo che sia efficace nascondendolo discreditandolo il singolo si va a vedere che si vengono allontanare a emarginare coloro che esitano quindi bisogna imparare a comunicare l'incertezza e il metodo scientifico la pratica epistemologica della scienza e concludo sul fatto che qui cito Giancarlo Surloni che è un comunicatore scientifico esperto di comunicazione del rischio che recentemente ha riflettuto sulla comunicazione e le responsabilità della comunicazione istituzionale riguardo a covid e la campagna vaccinale all'ammancato avvio di una massiccia campagna di comunicazione riguardo alla vaccinazione a mancare oltre all'organizzazione è stata una narrazione coerente in grado di accompagnare i cittadini attorno dei messaggi chiari fin del principio con obiettivi prefissati quindi il problema non è il logo della campagna vaccinale o il video di tornatore se ci piace o meno il problema è che non si capisce cosa vuole dire quel video manca un messaggio chiaro ed efficace i dubbi di coloro che esitano sono legittimi spesso ragionevoli la difficoltà è che troviamo all'interno di coloro che esitano persone molto diverse quindi abbiamo bisogno di cercare di capire lo spazio letterale metaforico in cui si trovano questi pubblici diversi e poi con campagne di comunicazione efficaci condotte da esperti andare a cercare di mirarli e possibilmente di convincerli non sarà possibile convincerli tutti ma non dobbiamo convincerli tutti dobbiamo convincere abbastanza per ottenere un livello abbastanza alto di vaccinazioni perché sono le vaccinazioni che alla fine vanno a salvare le vite e non i vaccini quindi se abbiamo tanti vaccini ma poi non ci vacciniamo non ce ne facciamo niente quindi mi fermo qui se avete domande mi farà piacere rispondervi grazie professore Sacamporese una relazione ricchissima sentiamo se ci sono interventi mi pare che il professor Garattini voglia dire qualcosa ma l'audio è spento il professor Garattini l'audio è spento il professor Garattini sta parlando qualcuno riesce forse a chiamare il professor Mori può chiamare il professor Garattini lo faccio subito perché non si è accorto che all'audio è spento forse adesso si adesso sono ah si 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 grazie no no dicevo grazie per questa relazione che è molto importante e chiarisce molti aspetti d'altra parte con la professoressa Camporesi abbiamo avuto vari rapporti quindi io comunque sono convinto del fatto e vorrei essere smentito sarei felice di essere smentito che tutto quello che possiamo fare in termini di comunicazione pubblica che è importantissimo che è fondamentale che sappiamo fare molto male in generale è però poco significativo se non c'è un background di conoscenza scolastica cioè se non cambia la struttura della nostra scuola perché c'è tutta una serie di concetti che sono molto lontani dall'opinione pubblica la difficoltà di stabilire il rapporto di causa d'effetto non è non è nella cultura generale e il fatto che ogni beneficio comporta dei rischi non è nella cultura generale e il fatto che le cose sono probabili non sono mai completamente sicure al 100% non è nella cultura generale cioè se mancano questo tipo di fondamentali di conoscenze fondamentali che devono avvenire attraverso la scuola sono convinto che nonostante la buona comunicazione di tutto quello che si potrà fare non otterremo molto questo diciamo certamente vuol dire che dobbiamo programmare su tempi molto lunghi però se non cominciamo non ci riusciremo mai e noi insomma è ormai dal 1900 e dalla riforma gentile che abbiamo questo tipo di scuola che è basata fondamentalmente su aspetti letterari filosofici artistici e nient'altro quindi io sono convinto che la scuola deve diventare un aspetto molto importante pensando ovviamente al futuro non all'immediato grazie professor Garattini condivido al 100% io ho studiato in un liceo scientifico ma come liceo scientifici italiani tanta teoria zero pratica e quindi metodo scientifico si impara fino a un certo punto e ci vuole una progettualità che sia sul lungo termine quindi parliamo appunto di investimento sulle future generazioni sicuramente la campagna di comunicazione se poi non va a insediarsi su un substrato che può andare a capire cosa significa per conoscenza probabilistica appunto rapporto rischi e benefici rischio relativo rischio assoluto può essere efficace fino a un certo punto quindi condivido al cento per cento chiaramente oltre al timore riguardo appunto la sicurezza e l'efficacia dei vaccini ci sono altri timori o perplessità che campagne di comunicazione possono andare a mirare per esempio la convinzione che approccia alternativi naturali siano più migliori dal punto di vista morale questo è l'argomento di etica di sociologia i timori riguardano la libertà dell'individuo la libertà dell'individuo sovrana lo Stato deve interferire quindi qui abbiamo due narrazioni che si competono quella della salute pubblica andiamo a fare qualcosa per il bene pubblico e dell'individuo quindi l'agitazione dei vaccini è partita dagli Stati Uniti ma ormai 30 anni fa chiaramente gli Stati Uniti sono un paese in cui l'individuo non è abituato a fare sacrifici per la collettività anche mettersi la mascherina veniva rappresentato come un sacrificio andiamo a immaginare a sottoporre il proprio figlio a un vaccino che ha dei rischi anche se dal punto di vista probabilistico sono molto minori rispetto ai benefici e questo tipo di esitazioni poi sono arrivate a Regno Unito e sono arrivate fino a noi l'altro tipo l'ultimo tema su cui la comunicazione può essere efficace è quello della trasparenza i conflitti di interessi che possono essere percepiti fra legami fra aziende farmaceutiche governi la professione medica perché vediamo scetticismo nella professione medica questi sono dubbi che sono legittimi e su cui si può fare qualcosa però i dubbi sono legittimi ma se per sé poi bisogna fare qualcosa riguardo a questi dubbi grazie mi dispiace di lasciare questa cosa interessante ma purtroppo devo andare grazie tante grazie grazie Silvio ciao ciao forse conviene che adesso riprendiamo la discussione con la vigna e poi dopo facciamo una discussione generale successiva c'erano due domande però non so se vogliamo dare il vero tipo di Enrico Dele ma la posso fare dopo insomma magari siamo finissimi va bene dopo va bene dopo beh allora passo la parola alla professoressa la vigna del corona grazie innanzitutto buonasera a tutti e tutte e volevo ringraziare il professor Mori per avermi invitata a partecipare a questo seminario e sono molto felice di poter partecipare con dei relatori ben più illustri di di me di cui ho ascoltato con grande interesse davvero gli interventi volevo iniziare con una premessa circa l'importanza che la questione della fiducia nella scienza ha anche per il giurista per il diritto basti pensare appunto come nelle società in cui i livelli di sfiducia nella scienza sono molto elevati se non addirittura di avversione verso appunto il mondo scientifico trovano terreno fertile e proliferano teorie pseudoscientifiche che sono hanno presentano grossi rischi dal punto di vista della tutela dei diritti questo sotto almeno due punti di vista da un lato diciamo la popolarità della pseudoscienza può portare può far sì che appunto tesi pseudoscientifiche possano trovare l'appoggio addirittura delle istituzioni e di questo fenomeno purtroppo in Italia abbiamo una tradizione abbastanza consolidata basti pensare al caso di Bella al caso Stamina alla politica che l'Italia ha sempre mantenuto in materia di OGM o più recentemente ai provvedimenti e alle decisioni giudiziarie adottate in materia in relazione all'axilella e quindi dall'altro lato mi pare si può osservare come la diffusione diciamo di un senso di sfiducia verso la scienza può portare a forme di ribellione di non di disobbedienza verso disposizioni appunto decisioni pubbliche che sono invece science based cioè decisioni che effettivamente si basano su evidenze scientifiche e questo è quanto avvenuto in Italia in relazione ai vaccini infatti appunto è purtroppo noto che il consolidarsi di diffondersi di teorie diciamo non fondate scientificamente circa la pericolosità di alcuni vaccini abbiano portato poi un numero rilevante di genitori a decidere di non vaccinare i propri figli e l'Italia ha visto quindi sorge in Italia sono nate epidemie per esempio di morbillo cioè di malattie che si retenevano ormai superate proprio grazie alla copertura vaccinale e di qui la decisione nel 2017 di introdurre con decreto legge l'obbligo 10 vaccinazioni obbligatorie quindi diciamo che la questione che mi mi pongo è innanzitutto quindi se la pandemia può cambiare questa può determinare un cambiamento rispetto a questa situazione e più in particolare oggi ci stiamo proprio interrogando su il ruolo che i vaccini contro il covid potrebbero giocare nella crescere o ridurre questo si vedrà la fiducia nella scienza diciamo che quando la pandemia è iniziata alcuni studiosi hanno pensato che questo potesse rappresentare un punto di svolta nel senso proprio di andare ad accrescere la fiducia nella scienza infatti infatti diciamo che la prima reazione della società come abbiamo detto anche prima della società ma anche dei governanti del decisore pubblico è stata quella di guardare proprio la comunità scientifica in cerca di soluzioni di risposte però appunto poi una serie di elementi hanno fatto sì che realizzare l'accrescimento quindi della fiducia nella scienza questo risultato non fosse così semplice infatti mi sembra chiaro che ben presto diciamo sentimenti di avversione o quantomeno diffidenza verso la comunità scientifica hanno iniziato a svilupparsi diceva anche la professoressa Campoleti ci sono studi appunto in questo senso e quindi parallelamente hanno iniziato a circolare teorie pseudo-scientifiche addirittura teorie complottistiche e questo è poi sfociato per esempio in alcune manifestazioni di negazionisti no mask che si sono verificati sostanzialmente nella quasi totalità dei paesi delle democrazie occidentali quindi la la questione vorrei appunto analizzare alcune delle cause che hanno portato a ciò in particolare partendo da un'osservazione cioè alcuni ci sono autori che hanno che si sono occupati della materia della fiducia della fiducia nella scienza che hanno osservato come la fiducia nella scienza aumenti tanto quanto maggiore è la percezione dell'esistenza di un consenso unanime nella comunità scientifica e da questo punto di vista vediamo che questa percezione di unanimità del consenso rispetto a temi relativi appunto al covid-19 sicuramente è mancata sin da subito e diciamo questo perché è mancata da un certo punto di vista è naturale questo fisiologico che mancaste perché si tratta di un virus nuovo rispetto a cui quindi è normale che esista a un margine di incertezza molto ampio e quindi pretendere dalla scienza diciamo come abbiamo anche già stato detto appunto prima di me pretendere certezze risposte certe così si era espresso il ministro Boccia nella primavera dell'anno scorso cioè la scienza deve darci delle risposte chiare e certe in realtà implica non conoscere esattamente quelle che sono le caratteristiche proprie delle scienze empiriche cioè quella di avere comunque portare con sé un margine di incertezza allo stesso tempo diciamo che non risulta neanche corretto ritenere che se la scienza quindi è incerta allora il sapere scientifico è in qualche modo equiparabile a qualsiasi altro tipo di sapere questo perché comunque anche perché bisogna considerare che normalmente a fianco a fianco ad un certo margine di incertezza sussiste un nucleo di conoscenze che non vengono più messe in discussione e che quindi possono essere un punto di riferimento e rimangono un punto di riferimento quindi questo è un aspetto dall'altro lato credo che un ruolo molto rilevante sia stato svolto dai media che sono andate credo abbiano contribuito molto a crescere la percezione del contrasto all'interno della comunità scientifica cioè abbiano presentato la comunità scientifica ancora più divisa di quello che effettivamente era questo diciamo dando voce a esperti o presunti tali che si sono per esempio andati ad esprimere su temi che non rientravano in realtà nella loro area di specializzazione oppure appunto sono andati a sostenere quindi con dichiarazioni pubbliche tesi non supportate da studi né tantomeno da pubblicazioni su riviste scientifiche e quindi in questo modo sostanzialmente diciamo degli esperti che hanno sostenuto tutti però prive di rispondamento scientifico si sono trovati al centro del dibattito pubblico e la percezione quindi è stata quella di una forte divisione anche su magari temi e argomenti rispetto a cui l'incertezza era in realtà molto meno elevata e questo a ciò si collega esattamente un altro aspetto che credo molto rilevante cioè a contribuire fortemente ad incrementare il senso di sfiducia di scetticismo verso la scienza durante la pandemia è stato in gran parte anche il comportamento di esponenti della comunità scientifica per cui si è osservato si è registrato un certo un certo abbandono del rigore metodologico che caratterizza invece proprio l'attività dello scienziato e questo appunto ha ricaduto in un'attività creative poi sulla percezione che la società ha della fidabilità della scienza della comunità scientifica rispetto al vaccino come appunto è stato detto la possibilità che si sviluppino sentimenti di sfiducia e di diffidenza sono molto più elevate proprio perché esiste già diciamo in una in una fetta della società sono già radicati i sentimenti di questo tipo verso i vaccini in generale per cui bisogna probabilmente prestare particolare attenzione ed infatti diciamo già alla vigilia dell'inizio della campagna vaccinale diciamo alcuni sondaggi è risultato che una parte comunque consistente della popolazione era tutt'altro che non riteneva opportuno comunque sicuro sottoporsi a vaccini che nel mentre venivano approvati dalle autorità preposte come l'EMA in Europa ora in questa percentuale probabilmente c'è un nucleo diciamo di convinti novax come diceva la professoressa camporesi una parte di persone che possono essere convinte in senso diversamente e la cosa diciamo preoccupante è che in parallelo hanno iniziato a circolare molte notizie scientificamente non fondate circa la pericolosità dei vaccini e quindi il il problema è che se molte persone si convinceranno in questo senso questa campagna vaccinale che si sta risultando sempre più complicata potrebbe diciamo gli effetti della campagna vaccinale potrebbero essere completamente fortemente ridotti anche perché appunto siamo assistendo alla nascita di varianti del virus che possono compromettere l'efficacia e possono compromettere l'efficacia dei vaccini e diciamo che a vaccini con efficacia inferiore dovrà poi corrispondere un impegno maggiore della popolazione nel senso che perché possa poi avere successo la campagna vaccinale sarà necessario nel caso estendere a una fascia sempre maggiore della popolazione la vaccinazione quindi come si può fare per mantenere e accrescere la fiducia della società nei vaccini o in generale nella scienza diciamo che vista l'analisi delle cause mi pare che sia importante ovviamente non eliminare il dibattito circa l'opportunità la sicurezza dei vaccini proprio perché anzi il dibattito è fondamentale forse in questi mesi quello che è mancato è stato proprio la pubblicità del dibattito visto che anche tutte le decisioni più importanti sui vaccini sono state prese non in Parlamento quindi è mancato anche quell'aspetto della pubblicità del dibattito ma sarebbe importante che la comunità scientifica attivasse dei meccanismi che garantiscano che sia riso il più possibile chiaro la linea di distinzione che sussiste tra ciò che può dirti professore Coruna volevo chiederle quanto tempo ancora un minuto no no tranquilla era solo che sono passati 20 minuti ma volevo capire quanto mancava grazie sì quello cioè l'attivazione di strumenti che consentano di distinguere ciò che può qualificarsi come scientifico anche se non certo ciò che invece rientra nella non scienza e quindi non è neanche coperto da quello che è la libertà e l'autonomia dello scienziato da questo punto di vista trovo per esempio uno strumento è sicuramente la comunicazione scientifica come diceva la professoressa Camporesi ma ritengo che sia utile possa essere utile vista la gravità della situazione anche il ricorso ai procedimenti disciplinari e a riguardo trovo diciamo non è un caso che a partire da dicembre alcuni ordini dei medici come l'ordine dei medici di Roma e quello di Bologna hanno avviato dei procedimenti disciplinari che alcuni di quali si sono già conclusi con decisioni di condanna di medici che avevano avanzato delle critiche ai vaccini però completamente prive di fondamento scientifico e che pertanto non possono considerarsi coperti diciamo dalla tutela della libertà della scienza di quell'articolo 33 della Costituzione più delicata invece la questione circa l'utilizzo dello strumento penale di cui pur si è parlato in Italia anche perché diciamo è stato utilizzato dall'associazione fatto trasversale per la scienza che denunciò a marzo il deputato Sgarbi abbiamo infatti nel codice penale l'articolo 656 pubblicazione o diffusione di notizie false esagerate o tendenziose attra a turbare l'ordine pubblico però appunto come è noto diciamo lo strumento penale ha delle controindicazioni cioè può produrre degli effetti controproducenti innanzitutto la vittimizzazione e martirizzazione del soggetto contro cui è utilizzato e poi attirare ancor più l'attenzione dell'opinione pubblica su magari le tesi di chi viene denunciato e così concludo grazie professoressa dal corona mi scuso per averla interrotta ma era ancora un po' di spazio non mi sono accorta del tipo che mi pare che anche questa sua relazione abbia richiamato alcuni aspetti che erano stati trattati dalla professoressa campolese e le ha integrati anche proprio sotto un profilo di responsabilità allora io direi che prima darei la parola alle tue persone che dovevano volevano intervenire prima che erano Vera Tripodi e Enrico Dalli poi gli altri se mi scrivono in chat che così passo la parola Vera Tripodi eccomi ecco mi sentite mi sentite ok ringrazio anch'io le le redatrici per la stimolante e interessante relazione e io volevo appunto fare una domanda riguardante che avevo pensato per la per la dottoressa camporesi ma insomma magari si dice anche alla dottoressa del corona visto che hanno trattato temi a fini vale a dire su quelle che potrebbero essere le strategie da mettere in atto per contrastare o quantomeno mitigare la questione dell'esitazione rispetto appunto alla fiducia e alla fidabilità che noi attribuiamo alla scienza e alle persone competenti e mi chiedevo se una di queste strategie potrebbe essere quella di analizzare un fenomeno che si è cominciato un po' ad analizzare in epistemologia in etica vale a dire il fatto che esistono dei meccanismi talvolta anche inconsci per cui noi siamo portati a attribuire o una eccessiva credibilità ad alcuni soggetti molta più credibilità rispetto a quanto appunto questi meriterebbero oppure ad attribuire minore un deficit come dire di credibilità di quello di quello che invece appunto alcune persone meriterebbero e questo appunto è un fenomeno molto molto sottile c'è una filosofa che si chiama Miranda Fricker che sta per esempio analizzando questo non nel campo della medicina ci sono altri studiosi anche i suoi allievi e i suoi allievi che stanno si stanno occupando appunto di questo fenomeno del deficit di credibilità nei processi appunto di attribuzione di fiducia di affidabilità che trovo appunto molto interessante quindi non so se la dottoressa Camporesi che ha diciamo un background più filosofico ed etico ha qualcosa da dire a riguardo se conosce questi studi grazie sì grazie Vera domanda commento eccellente infatti stavo pensando a Miranda Fricker epistemic injustice Miranda Fricker appunto ha sviluppato il concesso di giustizia epistemica che è l'intersezione di etica epistemologia in cui ci sono due tipi giustizia ingiustizia epistemica che di solito viene attribuito a un deficit di credibilità di alcuni tipi di alcune categorie della popolazione che in modo sistematico non vengono reputate degne di produrre conoscenza possiamo pensare a categorie di persone con malattie mentali ma anche in alcuni contesti sociali alcune categorie come di minoranze etniche l'esempio classico di Miranda Fricker era l'esempio del giardino segreto in cui l'afroamericano la sua testimonianza non viene reputata degna e viene condannato a morte in realtà non era stato lui il colpevole ma d'altra parte oltre al deficit di credibilità ci sono alcune categorie di persone quindi altrettanto interessante cui viene attribuito un eccesso di credibilità e questi possono essere leader politici e in questo caso infatti riguardo all'esitazione dei vaccini lo studio in cui ho citato brevemente della scienziata politica della politologa dell'università di Vienna Caterina Kislic che andava a vedere la crescente esitazione in Europa va anche fatto risalire al fatto che abbiamo movimenti populisti compreso Movimento 5 Stelle in Italia ma anche negli Stati Uniti oltreceano Trump che ha detto i bambini non sono mucche non possiamo dare lo stesso numero di vaccini ai bambini o altri esempi simili in cui coloro che esitano ai vaccini viene data una nuova piattaforma viene strumentalizzata l'esitazione ai vaccini quindi si ha appunto vengono messi assieme anti-vaxxer coloro per cui le fake news e come di cui parlava prima in modo molto interessante la vina del corona e cui c'è una responsabilità dello scienziato della professione medica scientifica di non diffondere notizie che sono ovviamente false quindi sicuramente le strategie di comunicazione efficace devono andare anche a tenere in conto l'eccesso di credibilità di alcuni tipi di persone io penso che è un problema molto complesso ma non è impossibile ci vogliono strategie di comunicazione efficace organizzata investimenti fondi soldi che vanno da esperti che hanno io non sono una comunicatrice della scienza io vado appunto il mio background è di etica filosofia della medicina e ho lavorato su questioni di fiducia nella scienza con colleghi sociologi nell'ambito pre-covid dei vaccini quindi sappiamo quali sono i motivi svariati di coloro che esitano possiamo andare a fare campagne non dobbiamo convincere tutti dobbiamo convincere alcuni dire che i dubbi sono illegittimi che i dubbi fanno bene alla vita ma poi lasciarli detti così non serve qual è il messaggio se qui mi fermo qui sicuramente il mio collega avrà altre cose da aggiungere professoressa del corona sì no appunto aggiungerei che penso che in queste situazioni là dove c'è incertezza sia ancora più importante dare importanza a quelle che sono le regole proprio del del metodo scientifico come si diceva e quindi anche per capire a chi rivolgersi a quali informazioni dare rilevanza poi ci sono tutta all'interno della comunità scientifica una serie di regole che possono possono svolgere una funzione di orientamento in qualche modo per cui anche dare rilevanza a questi aspetti che questo è un compito di chi si occupa di comunicazione grazie Enrico Dali che prima aveva chiesto di intervenire poi mi sentite sì sì la sentiamo bene io voglio fare una domanda sia a quelli che si occupano di epistemologia che anche al professor Mori perché come ha detto prima il professor Garattini in Italia proprio la cultura in genere il termine stesso cultura non rinvia la scienza una persona colta non è uno che conosce di fisica di matematica è una persona colta è uno che sa direttare nel nostro paese penso che sia così presumo premento che io sono stato a scuola dei prezi ho fatto liceo classico ho studiato filosofia di rispondenza ed è una cosa che mi dà una tristezza infinita perché avrei sognato di essere uno scienziato sono pure provato non ci sono riuscito però fa lo stesso quindi volevo chiedere al professor Mori o comunque a che cosa è dovuto questo perché secondo me si può dire l'influenza della chiesa cattolica eccetera però io ho sempre trovato un'influenza diversa per esempio il fatto che in Italia ci sia stato un grande partito comunista così come anche in Francia e che in quelli negli ideologi il partito comunista riteneva la scienza l'ideologia della borghesia questa 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 cosa esiste c'è anche per esempio il Ludovico Geimonat cioè il Ludovico Geimonat all'inizio ne avevo parlato con il professor Pasini concepisce la scienza come un'impresa di carattere veritativo e poi dopo arriva alla fine a sostenere che la scienza è l'ideologia delle classi dominanti eccetera però io qua mi occupo mi occupo di Basaglia e quindi la professoressa è a Trieste tante di queste critiche non è adottata la Basaglia nei confronti della psichiatria Basaglia diceva che la psichiatria era la brutta copia della medicina e della scienza però diceva che aveva un carattere ideologico che da un lato c'erano i potenti i borghesi e in basso purati c'erano i proletari e i sottoproletari l'assenza di democraticità della scienza non è democratica Basaglia voleva una comunità terapeutica che fosse assolutamente democratica poi quando si dice che la scienza non è democratica si dice che la scienza non sono democratici però poi dopo in realtà il problema del rapporto tra medicina e paziente è quello lì deve essere assolutamente democratizzato e insomma io ho sempre e poi dopo un'altra cosa Basaglia riteneva e pensava che la scienza psichiatrica per esempio dovesse essere sostituita dal sapere della gente cioè tutte queste argomentazioni sono argomentazioni che vedo che trova anche nel Novak è la scienza che è il prodotto delle multinazionali non è che ha un carattere ideologico è che deve essere sostituita dal sapere della gente eccetera cioè da un sapere non competente ci sono si ripetono queste cose questa dimensione ecco volevo solo dire questo che è l'unica cosa che posso dire perché per il resto della scienza ho imparato guarda io lo dico sempre la matuta che faccio ho vinto adesso il concorso d'anziano a Bicocca a giurisprudenza avevo studiato il libro del professor Mori e ho imparato come nasco di bambino il libro del professor Mori perché ho manco quello sapevo quindi proprio della scienza non so nulla nulla grazie una grande responsabilità per il professor Mori no no dunque non chiamatemi tanto in causa io intanto il mio non è un manuale di ginecologia e di ostetricia è un manuale di bioetica in cui si spiegano alcune modeste nozioni sulla fecondazione ma proprio paro paro volo basso molto basso detto questo ringrazio il dottor Dali per avermi cercato di coinvolgere io girerei la questione vedo che qui ci sono tanti colleghi da Demetrio Neri ma anche Roberto Malacrida che saluto e ringrazio per la presenza e tanti altri voglio dire socializziamo io non ho una risposta a quella posso fare un commento io volevo solo tirarmi fuori e annunciare che tra un quarto d'ora purtroppo poi devo lasciare la cosa ma c'è Giuliana che sa senz'altro tenere la questione perfetto io volevo solo rifare altre due domande posso rispondere e fare un commento riguardo a certo teniamo presente però che ci sono anche altre due domande ma perfetto professore ma brevemente riguardo all'importanza della dell'educazione dell'istruzione del superamento delle famose due culture di cui parlava Charles No in Italia ci sono esempi e tentativi ma anche che durano da vari anni io sono un'allieva del collegio superiore dell'università di Bologna che va a cercare di offrire una cultura interdisciplinare che si va a aggiungere in parallelo a quello al campo di studi dello studente universitario questo è un esperimento che dura ormai da da più di vent'anni e sempre l'università di Bologna c'è ehm parliamone ora che è un forum in cui membri della dell'università di Bologna cercano appunto di superare questa divisione fra le due culture raggiungendo un pubblico più ampio e portando le loro competenze e saranno un dialogo con il pubblico che può essere virtuale cittadini di Bologna ma anche oltre quindi ci sono questi esempi spesso sono magari esempi eh isolati esperimenti alcuni durano altri no un altro è quello dell'università di Milano che era il dottorato Folzadec che andava a unire la conoscenza pratica e teorica della alla al laboratorio e all'istituto europeo oncologico con una conoscenza teorica questo è un esperimento che è durato qualche anno e ora non esiste più per è perché magari non c'è un investimento non c'è quella progettualità di cui parlava Garazzini quindi pensando veramente alle generazioni del futuro posso fare anche una brevissima riflessione su questo tema da un altro punto di vista cioè è più anche quasi una domanda alla professoressa Campolesi ho un po' riflettuto studiando un po' da gli autori i filosofi della scienza di Pino 800 e poi inizio 900 mi è sembrato che mentre con appunto la cosiddetta svolta relativistica cioè se passati da una situazione in cui la scienza era quasi idolatrata come sapere perfetto certo oggettivo ha una situazione in cui mettendo in luce quelli che erano effettivamente degli aspetti delle debolezze del positivismo si è passati poi a una visione relativistica che però ha indebolito molto l'idea che ci sia una differenza tra sapere scientifico e altri saperi tra scienza e opinione e un po' questo è quello il problema che l'ideologia l'idea che è alla base poi del pensiero di molti movimenti come appunto Novax e altri quindi forse ritornare a affrontare quel tema della demarcazione quindi quali possono essere quali sono effettivamente le caratteristiche che ci consentono di dire che una certa affermazione è comunque dotata di valore scientifico e quando invece si tratta di mera opinione quindi si può ascoltare ma comunque deve essere dato il giusto non ha comunque valore diciamo conoscitivo può servire per altri scopi e niente questa è la osservazione poi dal punto di vista dei programmi scolastici mi pare che la riforma croce abbia inciso molto anche su l'impostazione in Italia della scuola non lo so se uno andava che ne so da Togliatti gli chiedeva di dirgli il nome di uno scienziato secondo me Togliatti rispondeva perché il sottotitolo della fenomenologia dello spirito era il sistema secondo me non lo so però posso fare una considerazione su quello che dice Dali ma anche gli altri posso? ci sono Giacomo Eliana Cocca Demetrio Neri e Chiara Norta che vogliono intervenire credo siano una testimonianza dell'interesse che ha suscitato proprio le vostre relazioni se vuole parlare lei dottor Neri perché è già ormai collegato poi gli daremo spazio gli altri perché le cose che diceva Dali sono molto interessanti anche la faccenda delle geoculture però per esempio vorrei far notare che quando era ministro della pubblica istruzione Luigi Berlinguer che veniva ovviamente dalla sinistra lo sappiamo tutti lui lanciò una grande parola d'ordine spostare l'asse educativo del nostro paese dalle materie umanistiche alle materie scientifiche dice non voleva dire come subito venne inteso anzi frainteso dimenticarsi di Dante Foscole e così via ma semplicemente creare quella base nel campo delle materie scientifiche che consentisse poi alle informazioni che pure ci sono abbiamo un flusso di informazioni enorme di legarsi a qualcosa altrimenti non funziona possiamo avere la migliore comunicazione della scienza che vogliamo ma se non si lega a una base che non abbiamo noi possiamo parlare di analfabetismo scientifico lo abbiamo visto con i vari eurobarometer che fanno a livello europeo quale sia forse ve lo ricordate quando si chiese per esempio perché i pomodori geneticamente modificati sono più buoni sono meno buoni di quelli naturali e la risposta delle persone acculturate era che i primi avevano i geni mentre quelli naturali non hanno geni e questo è dieci anni fa questo eurobarometer io direi che oggi se diciamo così ci spostiamo un attimo dalla emergenza che abbiamo e riusciva invece a mettere le basi per realizzare quello che voleva fare Luigi Berlinguer alla fine degli anni 90 forse alla prossima epidemia avremo qualche armi in più io vorrei ricordare che nel 2001 l'Europa ha lanciato un grande progetto proprio per far sì che la cittadinanza europea diventasse una cittadinanza di una società della scienza il progetto durò dieci anni ebbe dei buoni risultati per esempio in Inghilterra in Francia in Spagna in Italia fu totalmente ignorato totalmente ignorato non so quali risultati poi ci sarebbero stati ma sicuramente noi abbiamo questo grossissimo deficit lo uso anche se sto benissimo perché la Camporesi non sarebbe d'accordo conosco un po' ma c'è questo deficit che non riguarda le conoscenze nessuno chiede alla gente di essere un esperto di biologia molecolare per sapere quali vaccini devi prendere o in altri settori di fisica tonica ma la questione è proprio della mentalità scientifica del sapere come funziona la scienza perché se andate a vedere i dibattiti televisivi il fatto che ci siano due scienziati che la pensano diversamente viene subito inteso come una lacuna della scienza non si apprezza il fatto che la scienza è l'unica forma di conoscenza che ammette la verifica dei fatti ammette la disprova dei fatti e tutto questo per adesso non ce l'abbiamo ecco perché insieme a Garattini sono un po' pessimista almeno per quanto succederà spero di sbagliarmi nel prossimo futuro lascerei se siete d'accordo farei intervenire Giacomo Eliana Conca e Chiara Inurca magari con interventi brevi per lasciare poi a voi la chiusura perché credo che forse magari hanno delle domande che possono anche avere delle risposte integrate quindi integrare la risposta prego grazie sono Giacomo Giacomo Orlando io voglio sono molto perplesso dall'andamento del dibattito nel senso che ho avuto una sensazione stranissima abbiamo parlato di tanti personaggi che sono interessati nelle dinamiche sulla fiducia della scienza o meno abbiamo trascurato quello che secondo me io dico così perché io per 40 anni ho fatto il medico che è una figura fondamentale e il dottor Dali lo ha accennato di fuggita il rapporto medico-paziente ora professoressa Camporesi io ho fatto come le ho detto 40 anni il medico non mi sono mai ritenuto uno scienziato sono sempre ritenuto come diceva il professor Carlo Flamini un tecnico che applicava quello che la scienza che non era medicina mi metteva a disposizione e quanto però mi sedevo di fronte a un paziente o mi sedevo di fronte a un parente del paziente e dovevo dirgli da rianimatore guarda che ti devo intubare guarda che ti devo fare la tracotomia allora l'epistemologia la dorsa non c'entrano niente la fiducia deve essere nella persona del medico e io sono in grado da medico di leggere l'articolo sul New England ma non posso pretendere che il paziente accetti un rapporto di questo genere basato su tutti questi ragionamenti c'è un altro problema fondamentale la fiducia non nella scienza ma nel medico quale mediatore il medico di tutti i giorni quello che lavora quello che ha di fronte il problema del rapporto col medico se noi non siamo in grado di capire che il nodo della questione è questo io ho fatto il mio lavoro e ho visto cambiare la fiducia nel medico non nella scienza l'ho vista cambiare in maniera drammatica in 40 anni ma non è mai finita la fiducia nella scienza anzi forse si è chiesto troppo alla scienza si è creduto che la scienza potesse risolvere tutto ma quello che è crollato in maniera incredibile è il rapporto di fiducia col medico e chiudo rapidamente e mi scuso se mi sono troppo accalorato ma qualche anno fa la nostra associazione la consulta di bioetica ha organizzato a Roma un convegno sui problemi del fine vita e ha invitato il professor Veraghen che era il presidente che è il presidente della commissione che ha steso il protocollo per l'eutanasia attiva nei minori ha fatto la sua esposizione a un certo punto uno del pubblico gli ha detto l'opinione pubblico olandese come ha reagito a questa vostra proposta e la risposta è stata gli olandesi hanno fiducia nei medici non ha detto fiducia nella scienza perché io non posso andare a raccontare le nanoparticelle che avvolgono il vaccino contro il covid però devo essere sicuro che il mio rapporto col paziente è impostato in maniera corretta se manca quello altro che tutti questi bei ragionamenti la fiducia nella scienza cadrà come è caduta anche la fiducia nella persona che dovrebbe essere il rappresentante di questa struttura che sta in alto ma che poi deve essere mediata e il rapporto medico paziente è una cosa complicatissima difficilissima io l'ho capito che gran parte del mio tempo dovevo dedicarlo a questo aspetto alla fine della mia vita lavorativa in ospedalza questo volevo dire dottor Giacomo mi scuso ma il cognome non compare quindi devo chiamarla per forza per nome Orlando Orlando faccio parte della consulta mi scuso non la conoscerò no ma si immagina sono ancora così nota allora io parlerei chiamerei la Iana Cocca e la Chiara in Orda se siete d'accordo che così poi chiudete grazie mi sentite perfetto buonasera intanto grazie a tutti e a tutte per i vostri preziosi interventi io ora ho una domanda per la professoressa Camporesi o meglio che nasce da un'affermazione della professoressa Camporesi non si sente è caduta la connessione credo è caduta Chiara in Orda puoi tanto intervenire che così ottimizziamo i tempi il tempo che la va bene ok posso forse tornata Eliana l'avevate perso l'avevamo persa se volete faccio passare Chiara non c'è problema come volete Micheliana non ti preoccupare non so non so fin dove avete avete ascoltato è arrivato a fare una domanda alla professoressa Camporesi ok la domanda nasce appunto da una riflessione iniziale della professoressa cioè che la fiducia nella scienza è strettamente legata comunque influenzata anche dai media in questo senso visto che ovviamente c'è diritto di opinione e diritto di parola nei salotti della televisione e in generale nei media tutti parlano di scienza ne parlano i politici ne parlano addirittura figure del mondo dello spettacolo e così via di conseguenza in questo periodo in particolare tutti parlano di vaccini io mi chiedo se sia eticamente legittimo sanzionare le reti private che in questo periodo contribuiscono alla diffusione di fake news invitando personaggi discutibili che non hanno alcuna competenza di fronte a un pubblico di milioni di persone che vengono messi a diciamo discutere con invece persone esperte che sanno di cosa stanno parlando che cercano di spiegare e raccontare diciamo quelle che sono le idee della scienza ecco era solo uno spunto per capire se questa mia posizione è pericolosa o comunque è giuridicamente a ostacoli insurmontabili o se appunto possa avvenire da parte del controllo pubblico quello che avviene per esempio nelle piattaforme social private come twitter che se trump scrive che i vaccini sono un'assurdità gli cancellano il tweet punto perché non c'è niente di cui discutere su questo nel momento in cui tu hai l'influenza sei una figura influente e hai milioni e milioni di persone che ti leggono e hai anche una responsabilità politica e civile nei confronti di chi ti legge e ti ascolta come ce l'ha ce l'hanno le reti i programmi che si definiscono di informazione questo grazie sentiamo anche Chiara in nota che così forse magari la risposta può essere anche integrata grazie in parte diciamo la mia osservazione può essere anche ricollegata a quello che ha detto Eliana non totalmente ma sotto un certo punto di vista in quanto pur essendo d'accordo sull'importanza di un'educazione alla scienza nel comprendere il ruolo della scienza e come effettivamente conoscere una cosa porta a comprenderla meglio e a fidarsi di più sicuramente però non so nelle osservazioni e nelle vostre relazioni che ho sentito non so se poi magari ho non inteso bene io non so se questo però a sfidare tutto questo compito all'importanza di un'educazione alla scienza sia un po' idealizzare questa idea in questo momento nel senso che ovviamente per avere una conoscenza elevata è un grado classico elevato perché se no comunque non si potrebbero ottenere informazioni competenti cioè l'informazione non sarebbe più della scuola ma sarebbe delle istituzioni pubbliche a livello proprio di informazione pubblica non scolastica e quindi se il senso di comprendere l'importanza di vaccinarsi non dipende effettivamente da una competenza scientifica ma da competenze che potrebbero essere apprese anche nel percorso scolastico ma intese più come formazione individuale nel senso che io credo che l'importanza di vaccinarsi dipenda anche dal fatto che siamo una collettività che ha bisogno di un'idea comune e che sia scientifica o direzionata ad altro deve dipendere dal fatto che è importante farlo e quindi cioè solo non saprei se ampliare il presupposto dell'educazione su più fronti ecco grazie grazie prego posso rispondere collettivamente brevemente a tutti e tre innanzitutto parto da Giacomo Orlando condivido pienamente la fiducia nel medico infatti ho citato Pellegrino filosofo e medico americano che è autore della Virtu Ethics dell'etica delle virtù dei medici di cui so che anche Flamini era un autore il medico una delle virtù fondamentali è che deve essere affidabile degno di avere fiducia il problema secondo la mia modesta opinione che il medico di famiglia il medico di base non è più non è più allo stesso livello quel punto di accesso alla conoscenza medica scientifica che era una volta non ci si va più dal medico per sapere per avere male quindi all'interno della fiducia nell'istituzione nella fiducia nella medicina della scienza era un punto di accesso il medico di base ci passava di lì e ora non più perché per vari motivi per varie ragioni per cui anche all'interno per esempio adesso della distribuzione dei vaccini in Italia se andiamo a vedere la collettività alcune categorie di pazienti che possono dire in qualche modo andare a chiedere ai propri medici di base i medici di base non hanno ancora o almeno fino a pochi giorni fa ricevuto le linee guida per sapere in che modo si sarebbe fatta la distribuzione dopo che la vaccinazione delle categorie dei professionisti sanitari era stata terminata mi muovo velocemente poi lascio lo spazio a la vigna del corona Iliana Cocca i media responsabilità dei media capitalizzazione di senso disaccordo scientifico qui dal punto di vista della filosofia della scienza è proprio importante andare a vedere che non tutti i tipi di disaccordo all'interno della comunità scientifica sono degni di essere presi in considerazione alcuni sono normativamente appropriati altri no Andrew Wakefield quindi ci sarebbe bisogno a mio modesto parere di una regolamentazione perché i media hanno una responsabilità etica e anche una responsabilità su le vite che vanno a influenzare e infine nella mia relazione per rispondere a Chiara in Norta la mia relazione ho cercato di dire che secondo me la comunicazione deve essere andare oltre la comunicazione scientifica perché i timori nell'efficacia e nella sicurezza dei vaccini sono solo una delle almeno cinque aree in cui sappiamo che gli individui hanno dei timori a vaccinare coloro che esitano esitano per varie ragioni quindi sicuramente la formazione deve andare oltre perché se va solo a mirare il deficit scientifico va solo a mirare un tipo di pubblico e noi sappiamo che le campagne di comunicazione efficace devono andare a raggiungere il pubblico dove sono visto che il pubblico in questo senso è variegato e plurale devo operare su vari livelli secondo me Corona sì è stata molto esaustiva la professoressa Camporelli aggiungo solo proprio per quanto riguarda la figura del medico sono completamente d'accordo sul fatto che un problema è proprio che il medico la figura del medico di base ormai non è più quella che era una volta cioè non è più quel punto sì ma perché ma perché ma perché ma per politiche che sono state e volevo sottolineare appunto come credo tra l'altro che sia particolarmente grave siano particolarmente gravi quegli episodi che abbiamo avuto in Italia e anche all'estero di medici di base che hanno addirittura sconsigliato cioè hanno sostenuto tesi scientificamente infondate quindi in questo caso l'utilizzo della sanzione disciplinare sia comunque corretto se non si tratta di tesi che non hanno fondamento scientifico che non giustificabili in alcun modo ovviamente poi possono esserci posizioni diverse degli stessi medici di base su alcuni temi però appunto si tratta sempre di quel senso di delimitare anche l'area della scientificità anche rispetto alla figura del medico che non è appunto non può dire e consigliare qualsiasi cosa al paziente e per quanto riguarda invece la domanda di Eliana Cocca diciamo che dal punto di vista giuridico sicuramente c'è una mancanza di regolamentazione si potrebbe ipotizzare sarebbero possibili probabilmente degli interventi dell'autorità garante che è proprio preposta a controllare comunque il livello del servizio offerto all'intente che sarebbe quindi la Gcom fino ad arrivare anche all'ipotesi di sanzione penale come dicevo nel mio intervento nei casi più gravi in cui si sostengono proprio notizie false che possono creare un vero e proprio pericolo pubblico e in una situazione in quale quella di una pandemia non è del tutto impensabile che si possano creare delle situazioni di questo tipo e vorrei sottolineare non ne abbiamo parlato forse tantissimo dei social network diceva la professoressa Camporesi c'è bisogno di una regolamentazione e credo proprio di sì proprio perché soprattutto per un aspetto la scienza il metodo scientifico si basa sul confronto e così dovrebbe essere anche appunto dibattito su questioni scientifiche i social network o meno se non fosse possibile il dibattito non sarebbe neanche possibile convincere l'altro che ha torto sostanzialmente è dimostrato che diciamo il meccanismo di funzionamento dei social network è tale da per assoluto ridurre il confronto per cui chi si convince magari sulla base di appunto seguendo personaggi esperti che sostengono tesi sbagliate rischia di non avere un confronto di essere sempre più indirizzato verso quella tesi e quindi rinchiudersi in posizioni di un certo tipo quindi forse da questo punto di vista appunto sono già iniziate delle politiche di questo tipo per quanto riguarda l'ultima domanda sicuramente noi oggi abbiamo appuntato l'aspetto della scienza ma c'è anche tutto l'aspetto di educazione civica dei cittadini e come diceva anche il professor Garattini anche il principio scientifico per cui ha dei benefici normalmente corrispondono anche dei benefici che forse si è perso in un'epoca in cui godiamo di molti benefici e non sappiamo più riconoscere il perché e a che sacrifici corrispondono i benefici di cui stiamo godendo per tutte le domande molto interessanti e stimolanti ma ho visto che siamo arrivati alle 19 15 siamo andati un po' ma credo proprio sia l'interesse delle domande ma anche i commenti in chat forse avremmo avuto bisogno di tempo speriamo ci sia le altre opportunità per incontrarci io vi ringrazio veramente molto ringrazio anche la consulta che mi ha accordato questa fiducia di moderare questa sessione per me è stato veramente molto interessante e qualcuno chiedeva se è stata registrata però questo io non so rispondere chiederò domani magari la consulta è registrata è registrata perfetto perfetto perché credo che appunto i contenuti erano tanti magari riascoltarli approfondirli voi avete fatto anche riferimento a molti autori che non tutti conoscono magari uno dice voglio approfondire ricerco il nome dell'autore il tema io veramente ringrazio per me è stata veramente molto molto interessante ripeto credo anche per gli altri visto che sono ancora tanti in linee tutti quelli che sono scusati e dispiaciuti spero veramente ci siano altre opportunità vi ringrazio molto e buona serata a tutti arrivederci ciao